Si avvicina la prima della scala il prossimo 7 dicembre, un evento culturale di risonanza internazionale. Ormai da diversi anni alcuni paesi lontani dalla tradizione dell'opera occidentale si interessano sempre di più a questa forma di spettacolo dal vivo e noi ne vogliamo parlare con l'ospite che ci ha raggiunto in studio. Benvenuto a Paolo Petrocelli, assistente del sovraintendente del Teatro dell'Opera di Roma. Benvenuto per lo sviluppo internazionale e le relazioni esterne. Lei fra l'altro ha da poco pubblicato un nuovo libro che esce sia in inglese che in italiano, il primo studio sistematico sullo sviluppo dell'opera in Medio Oriente e Nord Africa, che quindi è molto apprezzata anche lì e perché appunto governi come quello dell'Oman o degli Emirati Arabi Uniti costruiscono proprio degli edifici di prestigio per ospitare questi spettacoli. L'opera rimane ancora oggi sicuramente una delle forme d'arte e di spettacolo più apprezzate al mondo. Negli ultimi 15 anni sono stati costruiti circa 10 nuovi teatri d'opera nel Medio Oriente e nel Nord Africa e altrettanti sono stati restaurati e ammodernati. In questo senso quindi i governi dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente stanziano somme ingenti, decine e decine di milioni di euro, per un nuovo sviluppo culturale. Il teatro d'opera rappresenta quindi il luogo ideale dove far incontrare nuove culture e culture diverse tra loro, ma diventa anche quell'attivatore di sviluppo economico e di crescita sociale che questi paesi diciamo mettono al centro delle loro agende politiche. Ci sono secondo lei degli interessi appunto geopolitici che portano a questo interesse per l'opera o c'è solo un apprezzamento culturale? No, certamente diciamo l'apertura al mondo è anche favorita attraverso le collaborazioni culturali e sicuramente il linguaggio dell'opera rappresenta un linguaggio universale che viene riconosciuto in tutto il mondo e quindi la costruzione di questi teatri rappresenta per questi paesi diciamo anche una nuova frontiera di posizionamento a livello internazionale. In questo senso ovviamente l'Italia è un referente fondamentale. Appunto che mebolano possono essere per il nostro paese? Beh ovviamente diciamo la cultura dell'opera nasce in Italia e ancora oggi con le nostre tantissime fondazioni lirico-sinfoniche rappresentiamo un punto di riferimento di eccellenza a livello internazionale. I nostri teatri, le nostre grandi orchestre, i nostri corpi di ballo si esibiscono all'estero e sempre di più anche in questi paesi Medio Oriente mi piace ricordare la bellissima tournée che il Teatro dell'Opera di Roma ha fatto proprio alla Royal Opera House Muscat in Oman portando in scena una produzione bellissima di Franco Zeffirelli Pagliacci. E quindi noi siamo dei veri e propri, lo sappiamo, ambasciatori della cultura e i teatri in questo senso sono i nostri teatri, sono i protagonisti dell'eccellenza della cultura italiana nel mondo. C'è un profilo diverso tra i due pubblici che assistono? Ci sono caratteristiche diverse? Certamente diciamo il pubblico locale dei teatri Medio Orientali è molto incuriosito dall'assistere a spettacoli d'opera, in particolare d'opera italiana. C'è da dire che c'è in realtà una tradizione che non parte da pochi anni ma parte in realtà dalla seconda metà dell'Ottocento, a partire da Algeria, Egitto, Tunisia che videro per la prima volta l'importazione di questa cultura dell'opera. Oggi c'è una nuova ondata e in questo senso si sta cercando di capire anche come il linguaggio dell'opera possa essere adottato dalle culture locali per diventare a sua volta veicolo di tradizione, repertorio, heritage del mondo arabo. E in questo senso è interessante anche vedere alcuni esperimenti come quello dell'Opera del Libano, una nuova compagnia d'opera che sta realizzando delle opere in lingua araba, quindi delle opere che raccontano di storie della tradizione araba nella lingua araba. E questa è una novità? Questa è una novità e devo dire è molto bello anche vedere la collaborazione che c'è tra i teatri in particolare italiani e le compagnie professionali locali nel cercare di trasferire il nostro know-how, la nostra expertise, ma anche perché no, di imparare noi a scoprire la cultura del mondo arabo attraverso l'opera. Dunque, queste sono delle declinazioni, ma cosa fa dell'opera uno spettacolo universale? Quali caratteristiche? Beh, certamente diciamo le storie. Delle storie che racconta il teatro d'opera sono storie universali, storie d'amore, storie di pace, di guerra, delle grandi sentimenti e emozioni dell'uomo. Noi ovviamente ne siamo in qualche modo gli eredi di questo straordinario patrimonio. I nostri artisti, le nostre orchestre, i nostri corpi di ballo trasmettono al nuovo pubblico queste storie in musica che non hanno davvero tempo. E' bello appunto sapere che l'Italia, che spesso diciamo fa fatica a rinnovarsi e trovare anche una proiezione nel futuro per tutto questo straordinario patrimonio, stia in realtà trovando le capacità, gli strumenti anche diciamo manageriali per ripensare in parte i modelli dell'opera. Ed è anche bello sapere che molti manager italiani sono a capo di alcune istituzioni nei teatri d'opera in Medio Oriente come ad esempio nell'Oman dove un manager italiano sta cercando di guidare, maestro Umberto Fanni, di guidare il teatro dell'opera dell'Oman verso nuovi orizzonti. Ultimo due parole sullo spettacolo. La Tosca che aprirà la stagione della Scala il prossimo 7 dicembre, l'immortale opera di Puccini. Beh ovviamente l'attendiamo tutti con grande curiosità. La prima della Scala sappiamo essere uno dei grandi appuntamenti internazionali dell'opera che in qualche modo motiva il pubblico ma anche lo ispira a pensare, a guardare all'opera come un linguaggio assolutamente contemporaneo. E ancora una volta i nostri teatri sono punto di riferimento per il pubblico e la critica internazionale e speriamo che anche quest'anno lo spettacolo della Scala possa essere vissuto da tutti come uno spettacolo straordinario di partecipazione e coinvolgimento.